Casella c'ha questo bel problema dell'imbarazzo della scelta l'auguriamo a tutti gli allenatori l'imbarazzo della scelta e poi non è facile perché le devi anche poi gestire quindi lui è bravo anche in questo ci guardiamo l'esercizio di mattina da maggio vai Marti due giri in accosciata anche qui un brano che chiama l'applauso il battito delle mani della gente e lo facciamo immaginiamo che lo stiamo facendo da casa doppio teso anche lei molto buono vai con la seconda saltava antismizzato rondata a flick doppio carpio fuori con il piede destro ma subito recupera e subito dentro sono diagonali molto lunghe quindi diventa anche difficile restare dentro facciamo il cambio anello altissimo la musica e ancora diagonale rondata salto tempo salto tempo flick doppio raccolto peccato una caduta spalle troppo avanti il rimbalzo della pedana diventa non contrastabile è costretta a mettere le mani al suolo nessun problema va subito all'angolo per un'altra diagonale un e mezzo un e mezzo un e mezzo wow sempre brava marty sempre un problema di controllo sull'arrivo per